E' un uomo, ora. Fa vedere al mondo di che pasta sei fatto. Io mi sono trovato un servo a contratto. Ned Kelly è il suo nome. Sparagli. Fatti una reputazione. Che cazzo fai, Harry? Doveva istruirti. A uccidere un uomo. Non ti regala niente a nessuno. Diventa l'uomo che eri destinato a essere. Non sei l'uomo che finge di essere, ma un ragazzo in cerca di un capitano che gli dica cosa fare. Sei un figlio di Siv. Siamo ribelli, guerrieri. Indossate vestiti da l'opera. Niente spaventa di più della follia. Volete mettere su un esercito? Sì! Fuoco! Siete a prova di proiettile, ragazzi! Moriresti per la tua mammina? Mary? No, non adesso. Saluta Ellen da parte mia. Parissimi. Un uomo non può cambiare il passato. Né sfuggire al suo destino. Sei un uomo ora. Il mio piccolo uomo. Mi definiscono il più spietato assassino mai esistito. Ma chi conosce la verità mi chiamerebbe eroe. Accendi il d'altro che sangue, sodore, sangue, carne, pelle, ossa. Sapevate che Joaquin Phoenix ha studiato video di persone che soffrono di risate patologiche per il suo Joker? Le scale della famosa scena in Joker sono nel Bronx e ormai sono diventate un'attrazione turistica. Quindi, se volete andarle a vedere, le trovate in Shakespeare Avenue al numero 1165. Per oggi è tutto. Per altri video e curiosità, vi ricordo, cliccate qui accanto a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!